musica wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi abbiamo un sacco di novità di cui parlare per quello che riguardano i prossimi giorni di fort né tanta tanta roba nel video di oggi parleremo degli ultimi aggiornamenti dell'evento marshmallow ovviamente sulla bocca di tutti e non solo nella comunità virtuale di internet ma se ne parla anche al di fuori parleremo ragazzi del drift board ci sono delle grandi notizie per quello che riguarda l'oggetto che qualcuno di voi ha avuto modo di provare nella modalità parco giochi se non ricordo male e che sembrerebbe stia per arrivare e anche i ragazzi grandi aggiornamenti per gli utenti che giocano dal mobile da cellulare vi ricordo sempre che siamo con gli amici di fortnite italy pagina telegram che vi invito ad andare a vedere link in descrizione mi raccomando un bel like se vi piace il mio video iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica nessuna live ma prima ragazzi la domanda ve la devo fare ve la devo fare la domanda i vostri commenti qua sotto dai raga che ci tengo un sacco a leggere quello che mi risponderete ed è una domanda davvero semplicissima mai soppato la skin marshmallow dai forza quanti l'hanno soppata voglio sapere qua sotto quanti di voi hanno soppato la skin io personalmente no non l'ho soppata non perché non mi piaccia perché non mi piace quindi ragazzi andiamo avanti e parliamo subito anzi vediamo anzi sentiamo una cosa davvero incredibile ragazzi qua siamo come vedete al tempio tomato e c'è un utente francese che ha sentito questo rumore ragazzi sentite che roba riuscite a sentire sotto ragazzi che rumore strano si sentiva sembrerebbe ragazzi la conferma che il terremoto come vi avevo anticipato e come abbiamo anche visto nei file di gioco stia per raggiungere l'isola di fortnite sappiamo che dovrebbe esserci qualcosa come 50 scariche di terremoto scosse di terremoto che probabilmente modificheranno la mappa ed è molto probabile che si potrà finalmente vedere il tanto atteso vulcano di cui ne parliamo veramente da un sacco di tempo ovviamente ragazzi staremo tutto a vedere penso che siate i primi a sentire questi rumori ma andiamo avanti ragazzi e parliamo avevate già intravisto sicuramente il signor ninja beh ragazzi c'è da dire un sacco di cose interessantissime sul 3 febbraio che cosa c'è il 3 febbraio ragazzi il 3 febbraio ricorre il centesimo super bowl per chi non lo sapesse che vive sul pianeta sfanculio praticamente il super bowl è l'evento di football americano adesso io non so se sia rugby o football americano comunque quelli con la palla ovale dell'evento sportivo più seguito al mondo quindi ragazzi ve ne parlo perché ninja proprio lui è stato ed è partecipe di uno degli sponsor del super bowl ve lo voglio fare vedere senza audio ovviamente per non incappare nel copyright ma voglio ragazzi mostrarvelo e come vedete eccolo qua il signor ninja fringia Che il ruba il cellulare questi sono tutti ovviamente grandi campioni del super bowl dice video game master e lui è ninja gli dice il tizio e fanno vedere come si dice il promo del super bowl ovviamente ragazzi se volete vedere lo spot completo con il Con l'audio vi invito ad andare a dare un'occhiata ovviamente su youtube l'altro Vedo le ombre lo troverete senza problemi ragazzi ma andiamo avanti e parliamo invece dell'evento appunto marshmallow come sappiamo lo stage è ultimato sparisce completamente il vecchio campo che c'era a parco pacifico Arriva il primo vero evento vinto virtuale di fortnite un palco veramente Stratosferico veramente enorme e sono convinto che ci sarà un sacco da divertirsi Domani alle 20 ragazzi stanno uscendo veramente date di tutti i colori no Dovrebbe esattamente essere per noi in italia alle 20 in quanto la data in america è alle 14 Quindi mi raccomando se avete modo di andare a fare l'evento cavolo andateci io non ci sarò ma mi raccomando tra l'altro buone notizie arriva Ufficialmente il tweet da parte di fortnite che ci dice che non riceverete strike se streamate l'evento o se lo portate nel vostro canale ovviamente come già vi anticipavo ieri non riceverete la monetizzazione Ci sta perché ovviamente è musica sotto copyright ma si sono riusciti ad accordare con La casa produttrice di marshmallow e quindi l'evento non verrà non vi strike Anno se porterete l'evento ma ragazzi attenzione perché invece guardate questo questo è un tweet Direttamente da parte di marshmallow nella sua pagina ufficiale che ci dice caricate il vostro Migliore Il vostro migliore video con la skin di marshmallow e taggatelo al Mello made it right in questo modo ovviamente si parla di twitter lo caricate su twitter e fate la tag con Mello made it right in questo modo ragazzi se verrete scelti automaticamente parteciperete alla selezione se verrete scelti vincerete un sacco di merchandise di Mars marshmallow non è un video solo ne sceglieranno parecchi quindi sicuramente saranno del merchandise ovviamente a tema marshmallow più fortnite un'occasione per provare a portarsi a casa qualcosa di interessante che sicuramente è molto molto particolare ma non voglio ancora Uscire dall'evento marshmallow perché ragazzi guardate qua siamo a parco pacifico questo è un utente che stavano giocando Tranquillamente e sentite un po che roba Check one two check one two Check one two Non so non so cosa dirvi ragazzi probabilmente è qualcosa di tralasciato Lasciato da parte degli utenti di da parte del team di epi games e sembra davvero un sound check appunto una prova prima dell'inizio Dell'evento tanta tanta roba tanta curiosità Anche per questa cosa andiamo avanti ragazzi e parliamo invece del drift board ve ne avevo già Parlato a inizio del video so che molti di voi me compreso Vorrebbero avere la possibilità di utilizzare il drift board il prima possibile Annunciato un bel po di tempo fa oramai ma purtroppo mai Rilasciato ufficialmente nel gioco Beh ragazzi è stato scoperto Un file molto interessante Questo ragazzi è una stringa proprio mezza imboscata Di codice che dice usa un hoverboard in different match e sembrerebbe fare parte delle sfide della settimana numero 10 di fortnite l'ultima prima di salutare una volta per tutte la season 7 e dare il benvenuto alla season 8 Quindi ragazzi quasi certamente Non sappiamo non vi posso dare una garanzia sulla Sulla settimana perché non si sa ma potrebbe essere Disponibile con la pace 7.4 che hanno praticamente già Annunciato quelli di epi games parlando di un bel po di bug che fixeranno soprattutto a livello tecnico Del game quindi ragazzi ovviamente tutti ad aspettare il drift board chiudo ragazzi con questa informazione importantissima per i giocatori da xbox Oggi e domani non sarà necessario avere il gold per giocare su fortnite in multiplayer è stata fatta questa cosa Per dare a tutti la possibilità di vedere l'evento di marshmallow Beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando Iscrivetevi in tanti al canale vi mando un abbraccione noi ci vediamo presto ciao